Perfetto, grazie. Ecco, dovete cliccare sul tasto blu, altrimenti saltate via per dare la vostra autorizzazione. Quindi vi dicevo, il tema dell'assistente sociale riflessivo, cioè che impara riflettendo sulla propria azione, mi è stato sempre caro. L'ho sviluppato più in concreto riflettendo su come si può imparare meglio riflettendo dei propri errori. Poi è stato un po' un succedersi quasi concatenato in una logica. Sono passato al tema della vergogna come ostacolo al riflettere sui propri errori perché ci fanno sentire talvolta inadeguati. E poi ho iniziato un po' a vedere come l'intero mondo, l'intera gamma cromatica delle emozioni impatta sulla professione dell'assistente sociale. E l'ho fatto con seminari, laboratori analoghi a questi, che mi hanno consentito anche di raccogliere molte storie. E una sintesi di questa, ecco, sarà anche oggetto di questo seminario. Vado a condividere il mio schermo per mostrarvi quella che sarà la struttura di queste tre ore innanzitutto. Allora, dovreste vedere il mio schermo intero, correggetemi se sbaglio, e non le slide, giusto? In realtà vediamo la prima diapositiva. Ok, perfetto, siccome è sul mio schermo... Ok, adesso perché ho due schermi e quindi non capivo bene quale voi vedeste. Benissimo, quindi è proprio quella che volevo voi vedeste. Allora, partiamo un po' dal titolo e dal richiamo ad un'immagine di un film che un sei anni fa ha avuto anche un certo successo, un film d'animazione per bambini e per adulti allo stesso tempo, che parla di emozioni. Noi utilizzeremo una breve scena di questo film come metafora al tema delle emozioni. E lo faremo nel corso di questa prima ora. Questo è quello che voi vedete, è il programma del laboratorio. Allora, siamo nella fase di avvio e di presentazione del laboratorio stesso, a cui seguirà senza interruzioni quella che è la mia relazione vera e propria, per poi andare a un lavoro di coppie che faremo utilizzando le stanze di Zoom, che è quello che ci vengono consentite da Zoom. Quindi lavoreremo a coppie in un lavoro di riflessione proprio su esperienze, proprio sul proprio... Allora, vediamo, provo a togliere così riesco anche a controllare. Faremo una pausa. Nel corso di questa pausa io lavorerò sugli esiti di questi vostri lavori a gruppo, in maniera tale che poi ne discuteremo assieme e arriveremo alle conclusioni. contiamo di chiudere il laboratorio alle 18, come da programma. Prima di entrare nel vivo dei contenuti di questa prima relazione, ecco, una slide rispetto al pensiero centrale del laboratorio, riassunto su questa slide. La pratica professionale dell'assistente sociale può essere arricchita e migliorata dall'ascolto consapevole e riflessivo delle proprie emozioni. Allora, qualcuno ha... Microfono aperto, sì. Microfono aperto e io non riesco a vedere il mio foglio. Si può... ecco adesso vedo... Dovrei essere in grado di... Però adesso purtroppo no. Ok, perfetto. Allora, colto consapevole no, invece c'è ancora. Quindi... Devo fare un'altra operazione. Scusate, ma... Ok. Ecco. Ecco. Adesso ritorniamo sulla condivisione schermo. A partire da... Allora, l'ascolto consapevole e riflessivo delle proprie emozioni aiuta ad arricchire la pratica professionale. Le emozioni non solamente sono una reazione a ciò che avviene, ma sono un qualche cosa che dentro di noi è ricco di informazioni. È ricco di informazioni e ci consente di comprendere meglio ciò che sta avvenendo attorno e dentro di noi, se chiaramente diamo ascolto o, in altre parole, se ci fermiamo a riflettere sulle nostre emozioni. Così come nel programma abbiamo un po' sottolineato, il tema delle emozioni è un tema un po' controverso. Spesso, ancora oggi, si parla un po' di emozioni come un ostacolo alla professionalità. E c'è l'idea che un bravo professionista, anche un assistente sociale, ma in qualunque campo, sia chi è a un atteggiamento distaccato, tra virgolette, professionale. E questo cozza completamente col fatto che un buon intervento di successo, sappiamo bene, che ha come ingredienti spesso empatia, intuito ed altre componenti non razionali che consentono proprio di generare degli interventi che aiutano veramente le persone. Ragioneremo proprio attorno a questo concetto, toccando anche il lavoro di alcuni autori e alcuni attrici che ci parlano di intelligenza emotiva, il molto noto Daniel Goleman, di agilità emotiva, della meno nota Susan David, e poi anche un tema molto nuovo per il servizio sociale, la self-compassion di Christine Neff. Quindi vi parlerò di emozioni anche alla luce del lavoro di questi studiosi, usando la classificazione di Paul Elkman, ragioneremo su cinque emozioni fondamentali, e vedremo quali strumenti possiamo utilizzare per apprendere meglio da ogni esperienza che noi viviamo come professionisti, nel caso specifico un'esperienza in cui è forte la dimensione emotiva. L'idea base è che, come dire, lavorando su questo aspetto, non solamente lavoriamo sul nostro benessere, che cosa mi stanno a dire le emozioni, ma anche sul benessere delle persone che vengono a chiedere aiuto ai servizi. Come parlarne? Queste tre slide, scusate, queste tre frasi, scusate, un po' riassumono il senso di fare un laboratorio e non un corso. Un laboratorio è un qualche cosa, un momento formativo, in cui tutti ci si mette un po' in gioco, tutti si dà un piccolo contributo. È quello che vi chiederò quando lavorerete a coppie, quello che vi chiederò nell'ultima parte, eventualmente anche intervenendo. vi chiederò anche, tra un istante, di usare anche la chat per esprimere eventuali vostre reazioni su un'immagine che vi mostrerò. Come parlarne? Allora, queste tre frasi, la prima sono di Madraine de Brel, assistente sociale francese, uno dei pilastri del servizio sociale della Francia, che diceva, morta da qualche anno, se si vuole aiutare gli altri a camminare, bisogna sapersi sedere. È una frase che ben riassume, secondo me, la necessità proprio di fermarsi per riflettere. Così come adesso ciascuno di noi è seduto, non siamo in piedi, lo stiamo facendo proprio per riflettere su un tema che ci può aiutare ad aiutare meglio agli altri. Poi, noi non impariamo dall'esperienza, impariamo da riflettere sull'esperienza, ci dice John Dewey, filosofo, psicologo di inizio del secolo passato, e poi, questa sembra una frase forse un po' pretenziosa, non ho mai insegnato ai miei allievi, ho solo cercato di metterli nelle condizioni migliori di imparare. Sono ben lontano dall'essere minimamente paragonabile ad Albert Einstein, però ecco, la mia aspirazione è proprio quella anche in questo contesto, di creare le condizioni migliori, di imparare non solamente dalle cose che io vi dirò, ma anche dalle cose che voi stessi, voi stesse direte e vi direte. Quali sono i punti che io toccherò in questa mia relazione, ecco, che ci porterà più o meno fino alle 16? Primo punto, cosa sono le emozioni? Una risorsa o un ostacolo nel servizio sociale? Secondo punto, come sono le emozioni connesse con altri temi che riguardano il servizio sociale, qual è ad esempio il genere? Come la vergogna è un'emozione che è quasi una meta-emozione, un'emozione sull'emozione. Spesso ci vergogniamo di provare paura, di provare rabbia, talvolta forse rabbia, o altre emozioni che non vorremmo provare in quel momento. Quindi ragioneremo un attimo sulla vergogna per poi entrare proprio nel campo delle cinque emozioni di base, quasi fossero dei colori di una tavolozza, i colori puri da mescolare, paura, rabbia, disgusto, tristezza e gioia. Vedremo un breve filmato, un breve estratto di meno di due minuti dal film Inside Out di cui vi ho fatto accenno prima con la prima slide. Una breve passaggio sui concetti di intelligenza emotiva e di agilità emotiva prima di vedere quali strumenti possiamo specificatamente utilizzare per riflettere su questo tema, e questo ci porterà proprio a sperimentarli nell'attività a coppie di cui vi ho accenato prima e di cui vi spiegherò meglio. Allora, su ognuna di queste slide voi vedrete in alto a sinistra i sei punti riassunti e in rosso evidenziato il punto su cui noi ci troviamo. Siamo all'ingresso un po' di questa passeggiata attorno al tema delle emozioni. Questa slide riassume in maniera molto sintetica un lavoro molto interessante di una studiosa O'Connor che è andata a vedere un po' tutto quello che è stato scritto sul tema delle emozioni del servizio sociale in inglese. E quello che viene fuori tra le cose interessanti è che di fatto due sono i concetti contraddittori che cozzano l'uno con l'altro, che emergono in questo ampio corpus di cose scritte sulle emozioni degli assistenti sociali. Da un lato viene riconosciuto il fatto che le emozioni sono una risorsa, una risorsa che è dinamica, è in movimento, muta continuamente e ci porta a dare un senso a quello che sta avvenendo, soprattutto nelle relazioni interpersonali, da un lato. Dall'altro lato però emerge, come dire, una sorta di quesito. Ma le emozioni sono o non sono professionali? E in questo vi è una certa ambivalenza negli assistenti sociali e soprattutto nelle loro organizzazioni, le organizzazioni in cui questi lavorano. E quindi è un po' un paradosso, perché le emozioni da un lato vengono conosciute come parte della pratica professionale, indispensabili, ma dall'altro lato vengono percepite come non professionali dalle culture organizzative professionali. Qua c'è Stefania collegata, c'è Stefania che coordina tecnicamente tutto, non posso non pensare a questo bellissimo cortometraggio, empati in cui l'assistente sociale viene sostituito da una macchina virtuale, che quindi non può provare emozioni. Allora, chi non l'avesse visto, se ha la possibilità di vederlo, va pure perché proprio ci fa riflettere anche su questo aspetto, emozioni professionali o no. Ma il tema delle emozioni è anche un tema che ci fa riflettere su un altro aspetto, come le emozioni sono anche legate a quelle che sono i temi del genere. Parto con questa domanda, cosa vi fa venire in mente questa foto? Provate a scrivere nella chat, cosa vi fa venire in mente questa foto? Una foto un po' particolare, dopo vi dirò la storia che ha questa foto. cosa vi fa venire in mente? Scrivete nella chat, per misteriose ragioni io per vedere la chat devo cercare tutto. molto triste ed emozionante, molto triste ed emozionante, tristezza, commozione, disperazione, confusione, mi provoca tristezza, ecco, indubbiamente. Vediamo un uomo che piange. Questa è un'immagine che io ho mostrato, stupore. Questa è un'immagine che ho mostrato in una serie di seminari che ho fatto non solamente in Italia, ma anche all'estero, in Inghilterra, in Sudafrica e in Israele. Ed è interessante quello che anche diverse culture ci fanno dire. Una volta vedere un uomo che piange sarebbe stata una cosa abbastanza impensabile, perché l'uomo, come dire, deve essere forte, non deve manifestare le emozioni. Oggi le cose sono un po' mutate, però è ancora vero che, come dire, il tema delle emozioni appare un po' nello stereotipo dei generi più vicino alla sfera del femminile che a quella del maschile. Le cose, certo, stanno molto cambiando, chiaramente, e aggiungo io per fortuna, però c'è ancora un po' di strada da fare da questo punto di vista. Ma questa immagine, con un po' le riflessioni che avete espresso, con le sensazioni che avete espresso, ci sta proprio a dire di come le emozioni sono un qualche cosa che è molto legato anche a quella che è la costruzione sociale, il nostro modo di vedere socialmente le emozioni e non. Allora, scusate, devo fare questa operazione, ma adesso credo di aver risolto. Quindi, una prima riflessione, ecco, come le emozioni ci aiutano a vedere molte cose rispetto a ciò che influenza il servizio sociale, ciò che influenza anche il nostro essere parte di un contesto sociale. E come vi dicevo prima, le emozioni, soprattutto in ambito lavorativo, ma non solo, sono spesso, come dire, in qualche modo nascoste da un velo di vergogna. Non ci piace mostrarci quando perdiamo le staffe, non ci piace mostrare spesso quando in qualche modo veniamo sommersi dalle emozioni. Quindi, in altre parole, come vi dicevo prima, è il tema della vergogna. Questo terzo passaggio è come se entrassimo in una terza stanza. Sei punti, ogni punto è una stanza, è un po' la stanza della vergogna. Allora, che cosa è la vergogna? In che senso la vergogna ha a che fare con questo tema? Perché una meta emozione? Cosa sappiamo sulla vergogna nel servizio sociale? E come depotenziare l'effetto negativo che questa può avere? Qua sto parlando chiaramente di vergogna negativa, qualcuna definisce vergogna tossica, c'è anche una vergogna che in qualche modo è positiva e che ci fa fermare, riflettere su cose magari che i nostri riferimenti etici considerano sbagliate. Vedremo alcuni esempi di situazioni di vergogna per gli assistenti sociali. Innanzitutto, che cos'è la vergogna? Vergogna è nascondimento. La vergogna ci porta a un disagio, chiaramente, ma anche il volerci nascondere. È un'esperienza emotiva dolorosa che è conseguente al pensare di essere difettosi e non degni di accettazione, di appartenenza. Mi vergogno di essere troppo bello, brutto, grasso, magro, di non essere bravo o brava a sufficienza, eccetera. Di non essere abbastanza, puntini puntini, aggiungiamo quello che noi vogliamo. È questo tipo di sensazione che crea disagio ci porta a desiderare di nasconderci, allontanarsi dagli altri. E talvolta, in un qualche modo, in questo tentativo di allontanarsi dagli altri, vi può essere anche rabbia, aggressività. Queste immagini, un po' come fanno i bambini quando si vergognano, chiudono gli occhi, come se chiudere gli occhi li facesse diventare invisibili. Ma quella è una metafora che un po' appartiene anche agli adulti, da questo punto di vista. La vergogna, quale senso di inadeguatezza, come vi dicevo prima, non sono abbastanza. Può essere racchiusa in questa frase. È un'emozione e come tale interessa nel servizio sociale sia il professionista che le persone che si rivolgono ai servizi. Provate a pensare, cosa più banale, in un servizio di salute mentale, i parenti che magari si accostano ad un servizio che in qualche modo per sua natura spesso è un po' stigmatizzante per un loro caro. O una persona che si trova in condizioni di disoccupazione per la prima volta nella sua vita e si approccia ad un servizio a chiedere un sussidio con un certo senso di disagio. Ma anche riguarda gli assistenti sociali, perché gli assistenti sociali lavorano su una linea che è proprio al limite dell'esperienza umana e del vivero sociale. La povertà, la sofferenza, le fine vite, la dipendenza. Tutte situazioni di fronte alle quali ogni cosa possiamo fare, come dire, difficilmente riesce a dare una soluzione piena, totale e immediata. L'assistente sociale con la bacchetta magica non c'è, anche se talvolta vi sono aspettative in questo senso. Riconoscere insieme che la vergogna è umana e naturale riduce gli effetti negativi prodotte da tale emozione. Ricordo un workshop di molti anni fa dove non avevo iniziato a parlare di questi temi, ma era un workshop di scrittura riflessiva. e c'era un gruppetto di persone in una stanza, una dozzina di persone, una di queste ha detto guardate, mi è successo questo episodio molto doloroso. Qualche giorno fa un mio utente si è tolto la vita e mentre lo diceva si vedeva che era molto colpita da questo accadimento. Era un segno di fallimento professionale, ma era soprattutto un'esperienza dolorosa per la perdita di una persona che questa assistente sociale aveva incontrato più volte. Dall'altro lato, una persona alzando la mano dice guarda, mi è successo anche a me qualche anno fa una cosa del genere. Sono passato rispetto a questo stesso tipo di esperienza. E da questo è partito un discorso che in qualche modo, un dialogo che poi ha coinvolto tutti quanti e proprio ha fatto scoprire come in queste e in molte altre esperienze siamo tutti sulla stessa barca. E il poterne parlare, parlare anche del disagio, della vergogna, delle emozioni che non ci piacciono, delle cose che sono andate storte, già di per sé aiuta a ridurre il senso di disagio che tutte queste cose ci portano. Il tema della vergogna, un tema un po' nuovo per il servizio sociale ma che ha già visto in giro nel mondo alcune ricerche, alcuni studi fatti in molti paesi dall'Australia agli Stati Uniti. C'è un autore inglese che è andato un po' a vedere questi studi di che cosa parlavano e li ha suddivisi in tre categorie. Una prima categoria di fatto non molto ampia in cui si parla proprio esplicitamente di vergogna. La vergogna venne riconosciuta apertamente e viene riconosciuta apertamente in situazioni di errore, di aggressione subite da assistenti sociali fatte da utenti, situazioni di suicidi di utenti o situazioni in cui si sente di non aver agito adeguatamente o si prova una paura che non si può ammettere. La paura di essere aggrediti è una di queste ad esempio e la cosa interessante nello studio che ho coordinato qualche anno fa recentemente con Barbara Rosina con OAS e Fondazione Nazionale quello che emerge dalle risposte di 20.000 assistenti sociali quasi la metà di tutti gli iscritti è che la paura è molto diffusa dagli assistenti sociali. Pensate un assistente sociale su 20.000 ha dichiarato in questo sondaggio online di andare al lavoro ogni giorno con la paura sono come dire più paurosi di noi no sono persone che come dire vivono in prima persona quello che è un fenomeno crescente di violenza e di aggressività danno non solamente chi opera nei servizi sociali ma danno a chi opera nei servizi sanitari anche nell'educazione quindi in vari tipi di contesti poi c'è un'altra altre due aree di ricerche che parlano di vergogna parlando in un senso più generale non diretto come un'emozione descritta come un sentirsi inadeguati svalutati poco considerati per la professione che si fa ecco è qua anche importante il tema dell'immagine dell'assistente sociale che viene la società e poi c'è una terza area di ricerche che parla della vergogna intesa come disagio in generale chiudo questa terza stanza che noi lasciamo sulla vergogna intesa come ostacolo ostacolo al riflettere al fermarsi a riflettere sulle cose che sono storte riflettere sulle emozioni che non vorremmo provare con delle frasi che lo stesso Gibson scrive che esprimono molto bene il messaggio che vi vorrei dare lui dice la voce degli assistenti sociali nelle ricerche prese in considerazione indica che alcuni professionisti sentono di lavorare sotto nuvola di paura della vergogna che viene da una cultura che si attende che loro facciano affronte a tutto in una società che non tolera l'errore non tollera l'errore dobbiamo essere perfetti spesso questo è il tipo di messaggio che arriva ed arriva perché vi è uno sconto di standard regole e obiettivi personali dell'organizzazione degli utenti uno scontro che produce una serie di aspettativi contrastanti tra loro vai vai dall'assistente sociale che ti risolve tutto dice l'assessore all'utente un po' che rompi scatole che è andato prima da lui prima che ad andare dagli operatori questo scontro ha fatto sì che qualunque decisione venga presa dall'operatore o dall'operatrice produca delusione senso di svalutazione tuttavia la sensazione di essere svalutato o salutata viene sperimentato più intensamente quando colui che svaluta ha più potere è ad esempio il nostro capo e conclude questo estratto con una frase che ritengo particolarmente importante la vergogna non riconosciuta porta senso di isolamento crisi personale e dissoluzione dei legami sociali identificare e definire tali esperienze come esperienze di vergogna può essere un primo passo per sviluppare resilienza personale e sensibilità organizzativa quindi parlarne primo riconoscere quello che stiamo provando darci un nome e parlarne e questo è quello che hanno fatto degli assistenti sociali che con me hanno fatto un workshop anni fa ripetuto in più edizioni proprio su questo tema della vergogna hanno fatto un lavoro analogo a quello che voi farete in questo pomeriggio cioè nel senso a coppie uno raccontava e l'altro faceva delle domande e ascoltava si sono confrontati su esperienze di vergogna sono andate a vederle prima nel dettaglio per poi andare a fare una sintesi in 160 caratteri 160 caratteri era un po' il limite degli sms che una volta noi rispettavamo perché dovevamo pagare gli sms oggi che possiamo scrivere romanzi su whatsapp o cose analoghe non facciamo neanche più caso però provate a vedere in queste micro storie che io chiamo storie bonsai storie bonsai perché in piccolo hanno tutto ciò che in grande avrebbe una narrazione più ampia ad esempio vergogna nel non sentirmi accogliente ed empatica verso utenza straniera a cui servizi sociali non riescono a dare risposte per carenza di risorse anche culturali vedete in tre righe come viene delineata in qualche modo questo senso di inadeguatezza che proviene da un sentirsi appartenente ad un'organizzazione che è inadeguata rispetto a un tema nuovo oggi lo è sempre meno il tema delle migrazioni il tema delle persone che arrivano da altre terre e rispetto ai cui problemi siamo spesso un po' sguarniti ho provato a pensare anche ad esempio un altro esempio primo lavoro l'amministrazione mi impone di accompagnare gli inziani al soggiorno climatico vergogna per non riconoscimento del ruolo e rabbia per non essere riuscita ad impormi vedete vergogna e rabbia alla successiva partenza mi sono rifiutata chiedendo un ordine di servizio quindi mettetemelo per iscritto e chiaramente non hanno potuto fare ho imparato a dire di no vedete in questa micro storia c'è anche il succo non solo dell'episodio ma anche dell'apprendimento se io dico scrivetemelo riesco un po' a come dire difendermi rispetto al ruolo che ho allora come vi dicevo la vergogna e l'entrare in questa terza stanza della vergogna da cui siamo usciti serviva proprio un po' per accompagnare l'ingresso nell'incontro con le cinque emozioni base secondo un lavoro fatto da questo psicologo che si chiama Elkman lui ha coinvolto centinaia migliaia di psicologi dicendo secondo voi quali sono le emozioni base più importante e le prime cinque quelle su cui vi è stato il maggior consenso sono proprio paura gioia disgusto rabbia e tristezza come vi ho promesso prima adesso andremo a vedere un breve spezzone di questo di questo film che proprio ci andrà a definire quelle che sono le il senso di queste emozioni metto in condivisione un attimo solo che devo mettere anche condivisione del suono condivisione suono safari ecco adesso dovreste vedere lo schermo vuoto un minuto e mezzo hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo è ora che tu conosca le tue emozioni quando nella tua vita va tutto bene è gioia che prende il controllo questa è gioia con il suo spirito inarrestabile e un'imbattibile energia gioia ti regala una faccia sorridente e ma che importa festeggiamo quando le cose non vanno per il verso giusto è tristezza che prende il controllo questa è tristezza con un tocco di cura e un cuore gentile tristezza entra in azione per lasciarti ho detto tristezza entra in azione tristezza tristezza quando il pericolo è in agguato paura è lì per salvarti con la velocità e la saggezza paura valuta la situazione e distende i nervi nel suo modo speciale lui è questo grazie paura quando le cose vanno male ecco rabbia lui è rabbia lui farà in modo che il mondo sappia che rabbia ha il controllo ma ciò a cui dovete fare davvero attenzione è quando prende il controllo a volte capitano cose repellenti succede quando disgusto prende il controllo questa è disgusto vi aiuta nella vostra vita sociale e sui piccoli pasticci della vita disgusto è lì per beh resisti ecco allora blocchiamo prima che parta l'altro video ecco e ritorniamo alle nostre più serie slide ma non per questo le serie slide sono più informative di fatto è un modo diverso per dire allora modo divertente di dire qualche cosa ma allo stesso tempo anche serio quello che avete visto appunto ci sottolinea anche quello che è il valore informativo di ciascuna di queste cinque emozioni in altre parole noi percepiamo prima l'emozione per certi aspetti o contemporaneo prima l'emozione rispetto a ciò che il messaggio che l'emozione veicola ad esempio proviamo disgusto quando percepiamo qualcosa come tossico spiacevole al nostro corpo o anche alla nostra integrità morale per certi aspetti provate a pensare a situazioni in cui magari questo è avvenuto nella vostra pratica professionale vari assistenti sociali hanno raccontato di aver provato disgusto ad esempio rispetto a situazioni abusi a danno di minori magari anche da parte di genitori o situazioni molto gravi e molto difficili proviamo felicità quando sperimentiamo meraviglio benessere proviamo paura quando percepiamo una minaccia alla nostra sicurezza o al nostro benessere proviamo rabbia quando siamo ostacolati nel raggiungimento dei nostri obiettivi mentalmente o fisicamente quando troviamo un ostacolo tra noi e il nostro obiettivo tra noi e il nostro bisogno di raggiungere quell'obiettivo e proviamo tristezza quando perdiamo qualche cosa di importante Elkman ha fatto una sorta di atlante di queste emozioni che è consultabile con varie diagrammi cose varie a questo sito che voi vedete qui su questa slide voi basta che in qualche modo digitiate su google Elkman e Atlas atlante lo trovate anche in versione tradotta in automatico in italiano se queste sono le cinque emozioni base se questo è il significato che queste cinque emozioni hanno nell'ora apparire come possiamo in qualche modo entrare meglio in questo mondo delle emozioni anche nell'ambito della nostra professione introduciamo due concetti quello di intelligenza emotiva prima e quello di agilità emotiva poi siamo in questa quinta stanza in una parte della stanza troviamo intelligenza emotiva nell'altra agilità emotiva e attorno all'intelligenza emotiva vi mostrerò l'estratto di un articolo di molti anni fa di animazione sociale che bene evidenza il fatto che le emozioni spesso sono consigliate un'interferenza al nostro lavoro professionale ma che non sono le emozioni più che gestite devono essere occasioni di riflessione e che non vi è dicotomia tra ragione e sentimento come proprio il concetto stesso di intelligenza emotiva ci dice allora in un articolo di molti anni fa Iori parlava di operatori sociali educatori e assistenti sociali parlava dell'aver cura della vita emotiva del fatto che ci dobbiamo prendere cura della nostra vita emotiva nel lavoro dove il sentire rimane troppo spesso trattenuto inascoltato considerato addirittura un ostacolo per la professionalità si crede o si finge di credere che essere professionali significhi tenere a bada le proprie emozioni l'idea da cui siamo partiti e quindi tenere a bada mi richiama molto un po' il tema della gestione delle emozioni il controllo a cui io accosterei più utilmente il tema del riflettere sulle emozioni la ragione per cui noi siamo qui ovvero ricercare il senso delle emozioni cioè dire che messaggio mi sta portando l'emozione che sto provando adesso e questo può essere fatto più facilmente nel momento in cui anche superiamo un po' questa dicotomia molto occidentale questa come dire separazione netta tra cervello e cuore tra mente e sentire e consideriamo che invece queste due metà sono molto più interconnesse confuse mescolate tra loro di quanto saremmo disposti ad ammettere e secondo me la rappresentazione che ci aiuta a capire meglio questo è questo un simbolo di una corrente filosofica orientale il taoismo il tao in cui come dire si evidenza che quelle che appaiono due polarità sono interconnesse tra loro il giorno e la notte insieme compongono una giornata di 24 ore e danno momenti in cui vi è in qualche modo un incontro tra queste due supposte polarità come ci dice questa psicologa che nell'ambito di un'intervista svolta nel corso di una ricerca che sta ottenendo sulle sulle gli errori professionali mi dice anche non c'è secondo me la risposta che si dà basandosi solo sull'intuito e la risposta che si dà solo basandosi sul ragionamento dove l'intuito è qualche cosa di più vicino a una dimensione non razionale dice non saprei fare una separazione vi è una interconnessione tra questi due aspetti e l'interconnessione tra questi due aspetti è proprio la base del concetto di intelligenza emotiva Goleman con questo concetto che non ha inventato lui ma che l'ha reso popolare con molte opere di divulgazione dice questo che la realtà ci mette di fronte a una gamma di scelte molto difficili come investire la liquidazione i soldi che ho chi sposare e in questi casi gli insegnamenti emozionali impartiti dalla via dalla vita il ricordo di un investimento che è stato disastroso una rottura sentimentale molto dolorosa ci inviano dei segnali che restringono il campo delle decisioni guidano la nostra decisione in altre parole eliminando alcune opzioni e le emozioni hanno un ruolo importante ai fini della razionalità e in questo rapporto tra sentimenti e pensiero la facoltà emozionale guida le nostre decisioni momento per momento in stretta collaborazione con la mente razionale consentendo il pensiero logico rendendolo impossibile è un passare da una polarità all'altra proprio polarità all'altra più che tra due cose separate e su questo come dire necessità di essere agili in questo passaggio si basa il lavoro di una psicologa sudafricana che pratica negli Stati Uniti che ha coniato questo concetto di agilità emotiva e agilità emotiva vediamo brevemente che cos'è e come in qualche modo coltivarla allora lei dice vi può essere rigità emotiva quando rimaniamo intrappolati in pensieri in sentimenti e in comportamenti che ci intrappolano e che non ci sono utili mentre agilità emotiva c'è quando vi è flessibilità riguarda i pensieri ai sentimenti per rispondere in maniera ottimale alle situazioni della quotidianità provate a pensare in termini di rigidità a quelle situazioni che ci provocano talmente tanta rabbia che è una rabbia che ci paralizza siamo un fuoco ma che di fatto non ci porta ad uscire da quella situazione che ci porta ad arrabbiarci l'agilità emotiva dice Susan David è la capacità di lasciarsi andare di calmarsi di vivere con maggiore intenzionalità si tratta di scegliere come rispondere al sistema di allerta emotivo e come si può fare questo dice varie cose nel suo testo tradotto anche in italiano titolo un pochino così bizzarro ma quasi da manuale di precetti ecco ma dice innanzitutto osservare quello che ci sta avvenendo e riconoscere le nostre emozioni con compassione curiosità e accettazione compassione è una parola che suona meglio in inglese che in italiano in italiano un po' anche di paternalistico usiamo piuttosto però con gentilezza con curiosità e accettazione piuttosto che dire no ma non mi devo arrabbiare non mi devo spaventare no c'è con gentilezza essere gentili con noi per poi domandarci a che pro qual è lo scopo di questa emozione che cosa mi sta dicendo da dove proviene che cosa nasconde quella tristezza frustrazione o gioia vi ricordate quello che abbiamo visto nella stanza precedente ecco quella delle emozioni base ognuna delle cinque emozioni c'è in quanto c'è qualche cosa attorno a noi che è mutato c'è in quanto abbiamo bisogno di mandarci un messaggio rispetto a ciò che sta avvenendo prima ancora con le emozioni che con la nostra razionalità alla mente e su questo andare in qualche modo a lavorare a riflettere sulle emozioni anche a quelle che non ci piacciono anche quelle che ci sembrano emozioni che mettono a nudo la nostra debolezza più che le nostre capacità ci sono alcune considerazioni finali che mi piacciono in maniera particolare Susan David dice vogliamo che la vita sia splendida e anche il meno dolorosa possibile d'altra parte la vita è in grado di avvilirci e dolore fa parte dell'ordine del mondo riconoscete che la bellezza della vita è inseparabile dalla sua fragilità siamo giovani finché non lo saremo più siamo sani finché non lo saremo più siamo con coloro che amiamo finché non lo saremo più ci arrabbiamo ci rattristiamo in quanto siamo capaci di provare gioia anche nella nostra professione quindi i doni dell'imperfezione in un qualche modo richiamano anche un'immagine quella che vi propongo in questa slide è un'immagine di Kintsugi che è una forma di arte giapponese che consiste nel ricomporre dei dei vasi delle porcellane andate in frantumi utilizzando un impasto di materiale prezioso come oro argento oppure platino e l'idea base è che le fratture sono parte della storia di un oggetto piuttosto che come qualcosa da nascondere vedete che bello questo oggetto è provata ad immaginare come doveva essere prima di andare in frantumi molto più banale ma questo è un oggetto unico e irripetibile per questo prezioso al pari delle esperienze che noi viviamo di emozioni talvolta difficili talvolta esperienze anche di fallimenti di errori che noi facciamo ma sono emozioni difficili errori o fallimenti che quando in qualche modo li portiamo a consapevolezza nella riflessione ci possono insegnare molto e poi ci possono dire molto per renderci dei professionisti migliori e per certi aspetti anche questa è un'immagine che bensì adatta anche così a rappresentare ciò che spesso facciamo di fronte alle vite andate in frantumi che in qualche modo bussano alla porta dei nostri uffici vite di persone con le quali cerchiamo di lavorare proprio per ricondurre un tragitto di vita verso una direzione più positiva e di maggiore serenità abbandoniamo questo discorso sui concetti base che svilupperemo poi nei momenti proprio a coppie per vedere con quali strumenti ok quello che ho detto fino adesso è che le emozioni possono essere una risorsa le emozioni sono tali anche per una serie di determinanti sociali quale ad esempio il genere spesso ci vergogniamo delle emozioni ci sono alcune emozioni di base che abbiamo detto essere col filmato rabbia disgusto paura tristezza e gioia le emozioni vanno prese con intelligenza e con agilità ok soprattutto va fatta riflessione ma come la possiamo fare due gli strumenti che io vi propongo e vi propongo di utilizzare proprio questo pomeriggio il primo è la cornice di riflessività di Gibbs che cos'è è una serie di domande riflettere cosa vuol dire interrogarsi noi non abbiamo bisogno di fare un corso su come riflettere nel nostro lavoro perché comunque lo facciamo già quando noi finito un colloquio tornando a casa dal lavoro riflettiamo ma cos'è andato storto come è andato quello ma perché è successo questo noi ci facciamo delle domande farsi delle domande è proprio il cuore del riflettere e la qualità delle domande porta anche ad un certo grado di qualità della riflessione vi sono delle cornici di riflessività che sono degli elenchi di domande che ci aiutano a fare proprio questo lavoro quello che io propongo nel mio seminario è il ciclo della riflessività di Gibbs è fatto da una cinquantina di domande anzi una quarantina di domande suddivise in sei gruppi e ciascuno di questi gruppi ha una domanda chiave il primo è la domanda descrizione che cosa è successo sostanzialmente cioè ho rifletto e richiamo alla mia memoria il più dettagliatamente possibile quelli che sono i particolari di ciò che è avvenuto fuori di me ma anche dentro di me in termini di sensazioni che cosa ho pensato e sentito e poi cerco in qualche modo di vedere cosa c'è stato di positivo e di negativo dell'esperienza un successo clamorosa ha sempre qualche cosa di emotivo non solo l'invidia dei colleghi o anche un fallimento ha qualche cosa di positivo pur essendo in gran parte inizialmente ci appare solamente come negativo e attraversare questi tre primi passaggi descrivere oggettivamente ciò che è avvenuto nelle mie emozioni e cosa c'è stato di positivo o negativo mi porta in un qualche modo a pormi ulteriori domande che sono in questa quarta fase che sono sostanzialmente attorno alla domanda chiave che senso posso dare all'esperienza e alla situazione che si è creata cioè in un qualche modo è come se io richiamassi frammenti di memoria per ricomporli in un quadro composto in una narrazione come delle perline su un tavolo che io con algo e file raccolgo per formare una collana la collana è la narrazione è un qualche cosa che mi dà un senso a ciò che è avvenuto e trovare il senso nelle cose è sostanzialmente dire a che cosa mi porta a questo che cosa mi può portare a fare di positivo nel futuro allora io capisco in questo livello ma non è sufficiente perché noi sappiamo bene che nella nostra professione imparare non è fine a se stesso ma è finalizzata ad un'azione ed abbiamo due passaggi da fare per arrivare a questo primo è che cos'altro avrei potuto fare è un po' come se io avesse una macchina del tempo tornassi indietro e mentalmente certo un gioco di fantasia e dicessi ecco che cosa potrei fare di diverso da ciò che ho fatto certo la macchina del tempo che ci riporta indietro non esiste ma la vita stessa è una specie di macchina del tempo che ci porta in avanti con velocità costante e ci riporta porta magari a sperimentare situazioni simili di fronte alla quale è importante porsi la domanda se la situazione si presentasse di nuovo che cosa farei questo è l'insegnamento che questa esperienza anzi che riflettere su queste esperienze mi possono dare le esperienze di per sé non ci insegnano nulla è riflettere sulle esperienze che ci porta ad imparare allora vedete ci sono appunto questi quesiti in questi dove ero chi altro era con me perché ero lì questi sono gli ulteriori quesiti rispetto alla prima fase della descrizione per andare proprio nel dettaglio rispetto alle sensazioni quali sono le mie sensazioni vedete tante domande per andare più nel dettaglio questa è una scheda che adesso potrete scaricare ma quello che io questo ripropone più nel dettaglio quello che vi ho detto qua c'è stato il positivo nell'esperienza nell'analisi io vado a capire in che modo i diversi fattori in gioco hanno prodotto il risultato finale proprio per poter arrivare a cos'altro avrei potuto fare e che cosa farei di diverso se la situazione si ripresentasse allora nello schema che voi vedete qui di cui vi prego di prendere nota perché servirà nel lavoro che tra qualche minuto faremo a coppie voi vedete lo schema che avete visto all'inizio con indicate in rosso alcune cose che è utile evidenziare quando si va a ragionare a riflettere su esperienze di emozioni particolarmente cariche di emozioni perché il ciclo della riflessione di Gibbs lo possiamo utilizzare per qualunque tipo di esperienza noi vogliamo esaminare ma se noi vogliamo in qualche modo riflettere più in profondità su esperienze cariche emotivamente allora andiamo a ricostruire la sensazione e io vi chiederò in coppie di uno racconterà e l'altro ascolterà facendo le domande magari queste domande e vi chiederò di chi racconta di pensare a un'esperienza dove c'è stata una delle cinque emozioni che ho elencato prima particolarmente forte e dominante ma è chiaro che le emozioni non vengono mai da sore vengono talvolta accompagnate dai loro fratelli e dalle loro sorelle che magari sono più piccoli magari una situazione in cui io mi sono arrabbiato terribilmente con la mia organizzazione che ha fatto una cosa che andava ma però poi mi sono anche rattristata di questa situazione di inadeguatezza della mia organizzazione nel dare una risposta agli utenti quindi ok cogliete quando andrete a raccontare l'emozione principale ma anche le altre che eventualmente ci sono si sono accompagnate quando è arrivata l'analisi a che senso posso dare l'esperienza la domanda forte importante rispetto al tema dell'emozione qual è lo scopo di questa emozione che cosa mi ha detto da dove proveniva qual è il messaggio nascosto in questa emozione immaginate che le emozioni siano come un messaggero che ha qualche cosa di importante da dirvi se io la metto sotto il tappeto mi perdo la possibilità di avere questa informazione importante preziosa se invece lo lascio fuori e ci do ascolto posso veramente andare molto lontano nella comprensione di ciò che è avvenuto che cos'altro avrei potuto fare per dare più ascolto alla mia emozione anche sempre tornando indietro alla macchina del tempo e poi rispetto al futuro rispetto all'apprendimento che cosa posso imparare dall'episodio dal messaggio nascosto nell'emozione provata questo è il cuore è il cuore importante di questa riflessione a cui ci porta arrivare allora questo vi chiederò di farlo a voce a coppie e poi vi chiederò di fare sempre a coppie una cosa che sembra un po' impossibile ma vi ho già mostrato che è possibile cioè ridurre la storia in 160 caratteri se sono 165 non capita nulla non vi faccio pagare centesimi in più che le compagnie telefoniche ci facevano pagare quando superavamo il numero di caratteri ed eravamo così bravi a riassumere tutto ti voglio bene mandato al nostro caro al fidanzato al fidanzata è uno esempio trattante allora provate a vedere questi esempi che vi dimostrano com'è possibile fare questo sono esempi di tre situazioni diverse di errore di rabbia e di gioia un errore quindi non c'entrano le emozioni genitori alcolisti e maltrattanti di tre bambini costruzione di rete di supporto fallito non sottovalutare i dati della realtà e non selezionare dati che confermano solo la possibilità di recupero guardate in tre righe come si riesce ad elineare così bene una situazione omettendo tutti i dati che possono identificare i protagonisti della storia che questo è estremamente importante ecco questo è importante vedete una situazione di genitori alcolisti ammattati di tre bambini e il fallimento di una costruzione di rete e c'è anche l'apprendimento ed è un apprendimento molto importante perché fa riferimento ad un fenomeno ahimè molto diffuso nella nostra professione ma anche in ogni esperienza umana spesso noi andiamo a cercare quei dati che confermano l'idea da cui stiamo partendo e non quei dati che magari ci possono mostrare che l'idea iniziale non era quella più aderenta alla realtà questa è una cosa che soprattutto nell'ambito della protezione dei minori è molto diffusa e come causa di molti errori c'è uno studio inglese su questo molto illuminante su questo aspetto ma vedete due esempi che sono più attinenti al lavoro che farete adesso di emozioni e rabbia rabbia per me di collega sentita sua sfiducia verso il mio operato e mi ha insinuato il dubbio di non fare abbastanza dopo sfogo con responsabile mi sono ricontestualizzata concluso lavoro in due settimane mantenuta stima della collega gioia ricevuta caramella da utente multiproblematica multiproblematico aggressivo per disoccupazione con precedenti penali dono come gesto di fiducia creato nel tempo passaggio in sette anni da rivendicazione a richieste di aiuto valori personali vedete in queste due parole i valori personali l'apprendimento che c'è ho avuto rinforzati i miei valori personali che la mia tenacia in sette anni con questa persona è stata riconosciuta nel miglioramento della persona ma anche in questo segno di gratitudine piccolo nella sua materialità ma molto grande nel suo significato sto per terminare posso chiedere di ritornare all'immagine precedente perché ho dimenticato di annotare la scritta in rosso del punto 6 ecco lascio un istante per tutti qua e mentre lo lascio vi dico quello che poi vi mostrerò con la slide gialla che stavo per mettere quello che io farò è questo allora con zoom vi dividerò in stanze da due quindi vi ritroverete non più con tutte le persone ma con un'altra persona vi presenterete un istante e poi deciderete chi dei due racconterà la sua esperienza scegliete voi l'emozione che volete di più di solito non si pensa poco al disgusto e la gioia date spazio alla gioia e poi vedremo anche perché quella che vi sembra più significativa per questo momento abbiamo una mezz'ora di tempo per questo lavoro quindi si potrà trattare un'unica un'unica storia quindi solamente una persona parlerà e una persona domanderà e ascolterà fate in maniera tale da da fare questo è importante che arriviate un po' alla domanda finale che cosa questa emozione mi ha detto di utile per il momento in cui l'ho provata e per il futuro poi c'è questa prima di concludere questa mezz'ora a cui poi vi sarà una breve pausa di 10-15 minuti ecco ecco fate questa cosa qui le assumettere in 160 carteri la vostra storia bonsai e mandatemela in forma anonima certo c'è l'indirizzo ma io non non lo vedrò mettete in oggetto l'emozione che avete scelto gioia paura rabbia mettete nell'oggetto quello e poi nel testo dell'email scrivete solamente questa cosa qui non scrivete altre cose niente nomi nulla in maniera tale che voi le mandate al mio indirizzo di posta elettronica è facile mio nome e cognome alessandro.sicora chiocciola unitn io lavoro all'università di Trento quindi università trento unitn punto it mentre voi lavorerete nelle stanze io girerò un po' mi vedrete apparire purtroppo non c'è il corrispondente del toc toc sulla porta cosa che avrei fatto se fossimo stati in presenza ma così proprio per darvi per vedere se tutto è chiaro per darvi una mano eventualmente su questo su questo percorso allora ripeto poi io girando poi anche vi manderò i messaggi vi darò anche un po' il tempo rispetto a questa cosa qua prima di aprire le stanze vi dico che allora poi nella l'ultima parte di questo seminario avremo il tempo anche per tutte le riflessioni che vi sono venute non solamente da questa esperienza in coppia e poi le vedremo assieme queste cose qua e nessuno dovrà dire quella è la mia storia quella no ecco per cui farò io un commento geniale faremo un po' una sorta di passeggiata nel nostro piccolo bosco di storie bonsai che andremo a fare e poi avremo il tempo un po' per fare un ragionamento anche sui contenuti però ecco vi domando se c'è eventualmente qualche cosa di ciò che vi ho detto fino adesso che non è stato sufficientemente chiaro credo che sia importante se vi sono dubbi o domande al volo che io vi dia una risposta subito eh sì io avrei una domanda prego Maria eh della coppia quindi uno dei due scriverà le mail giusto non tutte e due ovviamente allora lui che ha raccontato poi scriverà la mail allora no no fatelo assieme questa cosa qui poi è indifferente chi lo manda l'e-mail se è uno o l'altro l'importante è che sia anche un po' un prodotto di entrambi in maniera tale che risuoni bene anche chi ha ascoltato che può aiutare perché spesso quando abbiamo avuto un'esperienza intensa abbiamo difficoltà ad andare al cuore delle cose spesso affondiamo nei molti particolari perché 160 caratteri proprio per costringervi tra virgolette ad andare proprio al cuore dell'episodio e dell'evento e ci vuole un po' di tempo per pensare per scrivere ci si sta un istante ci vuole un pochino di tempo per pensare ok grazie grazie ma lei Maria altri dubbi? io nel frattempo interrompo la registrazione esatto e grazie 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 grazie